Ehi ragazzi bentorni ben trovati sul mio canale io sono Magnus Oggi siamo qui su Star Wars Jedi Fallen Order per provarlo su PS5 Naturalmente come assoluto vi invito come sempre a mettere un pollice in su, un bel commento, un bel mi piace Chi solo può scordare Star Wars Jedi Fallen Order E' stata una serie che vi ho portato sul canale che ha andato una bomba Ho aiutato una marea di gente perché non riuscivano naturalmente a finirlo Perché la mappa era un po' complicata Ero curioso di provarlo anche su PS5 Anche questa è retrocompatibilità perché purtroppo non c'è, non ci sono degli aggiornamenti Non c'è un upgrade che ci permetterà di sfruttare al meglio la PS5 Però potremmo avere delle migliorie per cui perché non provarlo a vederlo Tra l'altro poi si vocifera che hanno intenzione di realizzare anche il 2 Speriamo Comunque siamo in scremata, iniziamo, partiamo e vediamo com'è Ma sta parte è bellissima Tra l'altro poi è importante capire perché è vero che dovrebbero funzionare tutti i giochi da PS4 Ma dovrebbero Perché poi sappiamo che alcuni giochi stanno notando dei problemi Quindi se li testiamo è meglio Tra l'altro anche qui se non ricordo male i caricamenti non erano tanto veloci Allora l'impressione è della stessa che abbiamo avuto su Red Dead Redemption Molto più chiaro Come se fosse meno scuro, ecco Vabbè, contatto, è massa, è sacco Tutto il gioco, se non l'avete giocato vi consiglio di giocarlo perché è uno spettacolo Ma pure se non vi piace Star Wars Scusa Cal, mi dispiace di scurbarti ma il capo vuole vederti Chissà che cosa vuole Eccolo capo C'è un guasto sulla linea di Aceale che nasce dell'Auler, sono bloccate Servono due persone per fissare i cavi Non è una manovra semplice Doppia paga per questo incarico Andiamo capo, c'è anche un extra Accettiamo Va bene Fantastico Andiamo Al lavoro E qua Sono dietro di te Infatti vi ho consigliato anche a molti miei amici A cui Star Wars Scusate Faceva schifo Esiste una persona Non preoccupate Esiste una persona a cui non piace Star Wars Gli strumenti non arriveranno alla fine del torno Quassù Sì raga Gusi su gusti no? Dopo Guarda lì Una nave separatista Non vedevo una Lucre Hulk da secoli Già Secoli È molto piccola Rottomarla ci farebbe fare molti soldi Eh, andiamo Occhio! Occhio! Ma cosa? Ehi, tutto bene? Sì, sto bene La scala è andata Guarda lì qua Sì, noi ci spacchiamo il cran qua Va via di qui immediatamente Sei spazzatura non autorizzata Oh no, quante gentili Sì, sempre gentili Infatti secondo me lo potrebbero fare Un aggiornamento Perché Con un gioco del genere Con Ray Tracing mi sarebbe spettacolare Ma pure 63 PS Sì, sì Sì, sì Calma Sono di passaggio Eh, non mi ricordo Ah, ok Proprio perché Non ho fatto molti tagli a questa serie Perché io Pranamente rispetto Riesco quasi a sentire il gusto dei crediti A tanta gente Su YouTube Cerco di non fare molti tagli Ma semplicemente perché Non facendo molti tagli Dove andiamo? Non facendo molti tagli Dai spesso la possibilità A altri di andare avanti nel gioco Il problema è che Non è che tagli Che è audace Bello vederti Anche per me Non faccio Ma c'erano i togli Ci siamo pensati Questa è l'idea Non è che tutti quanti piace fare i tagli I tagli li fai perché YouTube Se non fai tagli ti danneggia Che si abbassa a tempo No Poi poi entriamo nella parte Ratti di discarica No, secondo me si vede molto più chiaro Devo andare a contrarmi Sono solo di passaggio Ma non mi ricordo Non serve che veniate a salutarmi Secondo me si vede meglio Molto meglio Sembra di giocare una luce Ciao bello Ci vediamo alle ganasce Va bene Arrivo Oh scusate Ragazzi Che fate Mi create questi problemi Ma qua scendo Come sei arrivato qui Come sei arrivata Tu qui No Non ce la facciamo Ma devo scendere No, devo stare lì No, dobbiamo andare di qua Abbiamo sbagliato Dai Ma poi è un bel personaggio C'è una bella storia Eccolo lì Ehi, dovremmo muovici E controlla ancora Belle musiche Sistema di combattimento fatto bene Un po' complicato Da alcuni versi Però è fatto bene Ecco Forse uno dei difetti È vero La mappa era complicata Che per me Per esempio Le difficoltà con i colori È stata complicata Usa quella leva Usa quella leva di comando manuale Ok Fatto Tocca a te Aspetta Bene Aggancio riuscito Stai bene? Ci sono Mi avevi fatto spaventare Fatto Aspetta Ci penso io Fatto Sali qua su Molti di voi L'hanno Comprato Grazie a me Andare un'occhiata È un caccia Jedi Ah Che colpo È il sogno di ogni rottamatore Che ne dici Da quanto è qui? Da quattro anni Cinque Il pilota se lo sarà goduto Fino alla fine Qui Jedi Una vera tragedia Io non ho mai creduto Che fossero tutti traditori Sì Forse È il nostro giorno fortunato L'impero ne ricaverà dei materiali Niente male Noi rottamiamo queste navi Dell'ultima guerra Così loro ne costruiscono altre nuove Bella fregatura Siamo qui a rischiare la pelle per i capi Almeno ci pagassero quanto ai tempi della repubblica Dovresti fare attenzione a ciò che dici Sta a sentire Con un simile bottino Potresti guadagnarti una via d'uscita da qui Perché dovrei andarmene da qui? Andiamo, Cal Sei ancora giovane Non vorrai fare la mia fine A un certo punto Dovrai voltare pagina E vivere la tua vita Trovare il tuo destino Certo, come vuoi Ora andiamo E' inutile parlare con te Cos'è scato? Cos'è scato? A pezzo A pezzo Ok Ok Il pilotavolo che riduzione era sensazionale. No! Tutto bene, Frau? Sì, sono... sono bloccato. Il pilota è andato! Ci porterà fuori di qui! Tieni duro! Attenzione, calm! A vento! Questa cosa vola a stento! Reggiti! Frau, stai bene? Sì, sì. Ci sono le comprazioni. Ora dobbiamo... Dobbiamo muoverci, andiamo! Che cosa è stato? Che cosa cavolo è successo? Sei stato tu? Cosa? Quella era la forza, vero? Dimenticati quello che hai visto! Ti prego, fidati! No, e come faccio? Io li ho visti, ho sentito le loro storie, capisci? Frau, lo so! Lo so! Lo so! E va bene, d'accordo! Ma dobbiamo stare attenti! Sì! 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 A me piace tutto tanto! Vabbè! È normale che so di parte! Però... Questa sembra che proprio era una scena molto buia! Che mi dici... Niente... Il solito... Cal... Cala, è un po' che lavoriamo insieme! E non ti ho mai visto fare una cosa simile! Ma che se ne abbiamo passate tante insieme! Quindi, so quale rischio hai corso per me, ma io non so come ricambiare, dirlo in giro, davvero. Non devi preoccuparti per me. Questo posto, non è sicuro. Magari dovresti, che ne so, smarire. Devo solamente tornare a prendere la mia corsa. Tappers, mi devi un favore. Ho sentito che era finito sul Narsada. Sì. Non mi vedrai per un po' ombra. Sì, stai tranquillo. Ci vediamo, calmo. Ma quali ambientazioni? Ma che lo gioco mi vorrebbe di giocare un'altra volta. Rauv! Rauv! bravo, aspetta è stato scappato, buonasera dove vai? non funziona andiamo all'altra parte oh questa cosa non me la ricordavo ma poi c'ho un sacco di cose apprendista, vada bene e ricorda maestro fidati solo della forza il treno si è fermato si, sta succedendo qualcosa tutti in piedi identificazione pronta mettetevi in riga, smelti forse è solo un'altra ispezione di contrabando un'altra ispezione di contrabando finalmente c'è qualche miglioramento sono tutti? si, seconda sorella cerchiamo un pericoloso fugitivo non è un comune anarchico ma un devoto al sovversivo ordine geni non consegnare questo traditore sarà considerato un atto di ribellione costituisciti o tutti i presenti verranno condannati a esecuzione sommaria penso sia ora che qualcuno si faccia avanti io ho lavorato a lungo su questa discarica da prima della guerra riparavamo e ricostruivamo navi le migliori poi è arrivato l'impero e gli ingegneri divennero rottamatori e i laboratori cominciarono ad essere sfruttati bravo ma tutti sappiamo la verità abbiamo solo troppa paura per dirla per l'impero siamo tutti sacrificabili si proprio così no guarda lì una spada lale ho trovato il Jedi se domani eh col tram stiamo calmi c'è un clandestino e non come può esserti un intruso? no sentite cosa hanno detto un Jedi attenzione è il traditore fuoco lo teniamo d'occhio non tanto sparare per uccidere colpite il bersaglio sono rimasto solo? si no non c'è giusto la testa ok secondo me è perfetto per un leggero una via d'uscita ok non devo fermarmi se entri è meglio stamattina non eri con noi all'addestramento ho scelto di riposare io mi preparo così così ti prepari a morire ti riposerai ostile in avvicinamento mazzo bello vabbè anche ora ah ok di le tue preghiere geni ti faccio secco non scapperai da tutto questo se ne andrai vivo da qui c'è entrato geni sono prontato a prontarti no 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 luce 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 c'è qualcuno lì penso di sì vabbè ragazzi io penso che questa patta possiamo terminare qui gran bel gioco e secondo me è anche un po' migliorato cioè è più chiaro si vede meglio scrivetevi sotto nei commenti cosa ne pensate ci vediamo sempre al prossimo video bye